Hey la Poké Fanatici, io sono Drars e bentornati in questo nuovo video di spacchettamento. Ultimamente ci stiamo dando dentro tipo tantissimo, e sto vedendo tantissimo nell'ultimo periodo un grande supporto da parte di tutti voi carissimi Poké Fanatici che state supportando questa serie e questi video di spacchettamenti in maniera potentissima. Nonostante ci sia stato un periodo e c'è ancora molto ricco di spacchettamenti sul mio canale perché stanno uscendo 3000 cose insieme e giustamente devo rimanere al passo state mandando tantissimo supporto e di questo sono felicissimo, vi ringrazio davvero dal profondo del mio cuore. Parlando di cose nuove, dato che la nuova espansione ombre... Cavolo mi scordo sempre come si chiama in italiano, Burning Shadows comunque dato che quella uscirà tra più o meno un mese, il giorno del mio compleanno, il 4 agosto oggi cosa andremo a fare? Ve l'avevo promesso nell'ultimo video di Primarina oggi andremo ad aprire le tin di Tapu Koko e Tapu Bulu oh mio Dio quanto sono belle! e anche queste come quelle di Lunala e Solgaleo che sono le ultime tin che abbiamo aperto hanno all'interno non 3 bustine l'una, assolutamente no! 4 bustine l'una, quindi avremo 8 bustine in totale di Guardiani Inoscenti più ovviamente le carte promo di Tapu Koko GX e Tapu Bulu GX io non vedo l'ora di aprirle e inoltre non ci fermeremo di certo qui perché di là adesso non ve lo prendo perché non ne ho voglia ok ho anche le collezioni di Lika Rock Formanotte e di Bewear GX volete anche quelle? Volete anche quelle al più presto? un bel commento qui sotto, ditemi che le volete e soprattutto bombardate questo video di Pollici in Su! ne dovete lasciare tanti, arriviamo almeno a 4000 like e la gente dice eh Lars ma tanti like a che servono? servono! perché tipo gli ultimi 3 spacchettamenti sono andati tutti quanti in tendenza tutti! vediamo di andare in tendenza anche con questo video e se non ci sono abbastanza mi piace il video non ci va in tendenza quindi cioè basta dire che i mi piace non servono perché prima dovreste informarvi su come funziona la piattaforma no! e quindi eccoci qui con le nostre bellissime tin ho già tolto la pellicola che dà veramente fastidio guarda come sbrilluccicano, sono molto belle sul retro abbiamo anche tutto lo spiegone generale schierati al fianco dei protettori delle isole guardate quanto sono belle, sono veramente belle pure tutti i motivi che ci sono devono ancora uscire quelle di Tapu Fini e Tapulele che comunque arriveranno penso prima o poi anche da noi e sono contento che ne abbiano fatte due alla volta perché tipo costano 24,90 l'una e doverle comprare tutte e quattro insieme mi sarebbe costato 100 euro meglio non averli spesi quei 100 euro veramente meglio di no iniziamo con la prima tin, quella di Tapu Koko andiamo per ordine, iniziamo da lui, dal protettore di mele mele andiamo a rimuovere tutta la parte plasticosa via il codice mettiamo qui questa è la carta intanto e sono GX le carte come avevo già detto sleeves, sleeves prego bisogno delle sleeves Sbam andiamo a tirare fuori qualcuna sempre per gufarcela insomma sempre al contrario poi ecco qui eccolo, mamma mia che bello che è Tapu Koko GX con 170 HP e le mosse anzi l'abilità Aerotraccia Artigli Supremi come mossa e Tapu Tuono GX come mossa GX è bellissima questa carta ok, via con le bustine siamo pronti? siamo carichi 1, 2, 3 e 4 sul fondo non c'è niente giusto per essere sicuri abbiamo Lycanroc Tapu Koko Komo e ancora Lycanroc hanno escluso Nightail Salola che bello iniziamo dalla coppia povero Nightail Salola è così figo andiamo a guardate come la sto aprendo questa bustina la sto aprendo in modo proprio volgarissimo via il codice 1, 2, 3, 4 e 5 nelle ultime tin che ho aperto quella di Solgaleo e Lunale si parla già di un paio di mesi fa quindi oh mio dio è passato così tanto dall'ultima tin avevo trovato 2 GX in una tin e poi una in un'altra speriamo di rifare l'impresa di nuovo Geodudalola Glygar Patrat Litwick Pencham Snorant Reverse Energia Metallo Acciaio scusatemi Glyscore Clepeable Metang e è subito oh mio dio mamma mia Toxapex GX non l'avevo nemmeno sentita sulle mani ultimamente non le sento più quando le tocco sarà veramente che tipo ho un po' cioè lo ammetto ho un po' le mani sudate perché fa caldissimo e questo non mi consente di sentire perché di solito le sento sempre di sicuro se trovo la ultra quella la sentirò per forza perché è ruvida bellissima si parte oh alla prima bustina sculodlarz in azione vogliamo proprio i commenti qui sotto hashtag sculodlarz in azione Toxapex GX con 210 HP e le mosse spara lance veleno ultra intenso e la mossa GX rifugio totale GX bellissima guardate come sbrilluccica troppo bella e siamo già a uno però non ci devo fare troppo l'abitudine perché ovviamente non può essere sempre così però io magari confido nel trovarne due per ogni team magari almeno in una team trovarne due si può fare 1,2,3,4 e 5 Markrow Senshirolola Macho Censi Snorant Absol Reverse Energy a buio Zona protetta dell'Ether Paradise Tenta Cruel Ibis oh mio Dio oh mio Dio no raga ma non l'ho sentito sentita ma che cavolo succede non le sento più col dito non le cioè avevo appena detto la ruvida vabbè la se ho trovato una Hyper vabbè raga no Sculodlarz per forza cioè oddio oddio peccato che ce l'ho già Toxopex Hyper allora non avevo mai trovato una Hyper mi sembra in real in Guardiani Nascenti nemmeno nel box l'ho trovata ma nemmeno in Sole e Luna l'avevo trovata questa è la prima volta che sbusto una Hyper le Hyper me le sono sempre fatte scambiare mai trovate da solo in real sull'Line C questa è la primissima Hyper che sbusto e giustamente Toxopex ancora no raga c'è la Hyper la Hyper questo è un titolo clickbait cheesecake cacchio questo è clickbait cheesecake plumcake pancake perché ci sono 3000 cose da mettere ho trovato la Hyper avete idea del clickbait estremo che si potrà fare nel titolo del video assurdo due pacchetti due rare perfetto Stapple Phantamp Elioptile Beldam Tentacle Gotorita Reverse Energia Elettro Sudovudo Ibis riciclaggio energia Oricori ok vi sono spaventato perché non le sento più e poi me le ritrovo dava c'è la Hyper io ancora non ci credo ragazzi ancora non ci credo ultimo pacchetto di questa teen mamma mia sono riuscito nell'intento di trovare due rare per teen c'è ho trovato la Hyper neanche dire che ho trovato due GX normali oh mio dio Machop Trabbish Delibird Talow Carvania Metangrevels Energia Erba Lotteria Energia Machop Glady non ci credo non ci credo raga Tartolator Ultra Full Art no non ci credo non ci credo 3 in una teen 3 in una teen non è possibile non è possibile ma che cavolo cioè questa è la teen della vita penso che boh teen così non lo so vengono dal cielo no raga cioè ma è incredibile una teen e ho trovato la GX normale la GX Ultra e la GX Hyper ma che cavolo non ci credo e devo ancora aprire una teen no vabbè ma è impossibile è un miracolo raga sculo dell'Arz cioè ma più di me ma chi scula su YouTube Italia su Pokemon nessuno nessuno teen di Tapu Pulu andiamo alla slivare cioè ho tirato fuori 3 sleeves le ho già usate tutte non me le aspettavo assolutamente Tapu Pulu GX con incornata giudizio della natura e Tapu Natura GX 180 HP bellissima anche questa la mettiamo di lato via il codice da qui prendiamo le bustine oh mio dio che figata pazzesca che figata pazzesca sole e luna guardiani nascenti siamo pronti oh mio dio oh mio dio guarda se anche in questa teen ne trovo una sola mi accontento come fare proprio cast form tentacle cleperi litwig gligar benda scelta reverse energia erba grave lera lora grave lera lora ala glady e rayquaza ok pensavo cioè perché avevo preso quella pensavo fosse l'ultima ho detto oddio guarda c'è una GX dietro ti giuro vi sto spaventando vi sto spaventando cioè raga la teen della vita mai avuto così tanto culo in una teen cioè ne ho trovate due di GX l'ultima volta ma tre e poi una è hyper patrat gotita cast form tentacle cleperi salendit energy acciaio gliscor collina scorciante akamo e garbodor ok qua non sto trovando niente mi sa che qua non troverò proprio nulla di nulla due bustine rimaste vediamo se tapu bulu si trasformerà in tapu bufu da dove non troverò nulla oh mio dio questo è dpg reference tre quattro e cinque salendit no spas taylou rockraft gumi muddray reverse energy acciaio slowbro wachog barella victribel ok ok allora ne posso trovare una o posso trovare nulla cioè veramente ma possiamo fare una teen tutto e una teen niente cioè assurdo perché poi io faccio il video un video solo in cui le apro tutte e due se avessi fatto un video per teen cosa che parecchi fanno comunque cioè avrei avuto una teen con proprio clickbait cheesecake estremo e l'altra senza un cavolo taylou whalemare trabbish jagmo windpod pangoro reverse energy acqua seblai pozione max sudo vudo vediamo se riusciamo a fare il miracolo no oh una teen piena e una vuota per fortuna che le ho prese insieme perché sennò avrei rosicato tantissimo va bene va bene non mi lamento anche perché cioè come fai a lamentarti dopo aver trovato questo ben di dio cioè assurdo assurdo questo video deve fare 4000 like adesso poche fanatici questo spacchettamento si conclude qui mamma mia che bellezza io quindi vi saluto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi ricordatevi un bel like un bel commento qui sotto con sculodlards in azione con l'hashtag e noi ci vediamo in un prossimo video bye bye mamma mia quanto sculato ciao 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 ciao